Va bene ragazzi ci siamo a due parte a testa Va bene? Mi raccomando Ragazzi un po' di casino per la finale Dai, 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 dai Ok ragazzi vai DJ Dai Dai Ragazzi Faccio dopo 4 mazzoni per la finale Ok Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Sì.